benvenuti nella profumeria cup dal 1978 il segreto della tua bellezza io sono marco ed io sono laura titolari delle profumerie cup di pesaro vi presentiamo alcune delle nostre idee regalo natalizie i migliori brand italiani francesi americani nei nostri negozi puoi trovare un ampio assortimento di prodotti di estetica cosmetica make up tricologici e l'alta profumeria al migliore prezzo che ci sia nei nostri 550 metri di negozio un'ampia zona è dedicata alla parte del tricologico ed in particolare alla cosmetica pulita che cos'è la cosmetica pulita per esempio champi balsami latti idratanti anticrespo tutti privi di siliconi parabeni e il temutissimo sls sodium lauric sulfate cosmetica pulita sapete perché cap 1978 perché era l'anno 1978 quando questo signore qui apre il primo punto vendita cap centro acquisti parrucchieri un ingrosso per capelli e per tutto ciò che siamo diventati oggi qui ci troviamo nell'area estetica qui potete trovare i migliori prodotti per l'estetica professionali oppure testarli nella nostra area relax potete anche trovare una serie di maschere simpaticissime con fasce coordinate mascherina di mini e fascetta di mini aladin biancaneve cenerentola paperina un vasto assortimento alla continua ricerca dei prodotti più particolari sempre grande attenzione anche ai più piccoli e anche per i più grandi maschere viso idratanti illuminanti di mini maschera per i piedi con le scarpe di cenerentola e tutta una serie con frozen stregatto tutta la linea mappets e per creare un momento simpatico e divertente mentre vi fate la maschera viso perché non indossare queste simpaticissime fasce per capelli quindi quest'anno per natale non ti dimenticare di passarci a trovare